Come ho fatto? Il microfono, non mangia, sei tranquillo E che parlo da solo? E aspettavamo tutti Tornando Vittoria Bella domenica Bella domenica sì Bella Vittoria nel derby Ma quest'anno è per me in classifica Abbiamo fatto un'ottima partita tutti i ragazzi E' bello per il risultato e soprattutto Per la gara che abbiamo dimostrato Che siamo un'ottima squadra Solo che per gli infortuni Sono stati un po' penalizzati Ecco Tu adesso sei a posto, ci sei visto Forse ci mancano ancora i 90 minuti Eh non mancano ancora i 90 minuti Oggi dopo 40 minuti Avevo già un po' di crampi Ho tirato avanti finché potevo E' normale, si è stato fermo un mese Adesso domenica Si passa dalla prima in classifica all'ultima Domenica è uno sconto diretto per noi Dove ci servono I live punti Valgono sei Come siamo adesso messi in classifica Speriamo di fare un filotto di qui a Natale E poi proseguire Perché abbiamo trovato la strada giusta Il binario giusto Per continuare Ma quanto giovedì ha strigliato tutti Il fatto dell'arrivare prima sul pallone Sulle palle lunghe Oggi Si Avevamo delle difficoltà Che il mister ha visto E ci ha puntualizzato più questa settimana Sul fatto delle palle Del rimbalzi Che arriviamo sempre quasi sempre dietro gli altri Speriamo insomma Stiamo un po' più su con tutta la squadra Il rigore tu l'hai visto da fuori? Hai visto qualcosa di più? Non ho visto niente Del rigore non ho visto nulla Speriamo tempo Un paio di cartellini Come In San Alenco Sembrato un momento di valutazione Non so Nel campo Nel campo potrei darmi il cartellino Su un'entrata che ho fatto io a Schettino All'inizio Perché sono entrato in gamba tesa Quello poteva darmi No no Mi poteva dare il cartellino lì Poi Gli altri sinceramente non me li ricordo Adesso Non so stare Comunque un derby ci può anche stare Magari lui ha sorvolato su altri episodi E ha fatto No se metti insieme anche il rigore Non mi è sembrato un'albitro Ma non per Ma no Secondo me è stato un ottimo arbitro Il rigore non ho visto niente Non ti posso dire niente Il rigore non lo so Non so Io sto rigore un attimo fa Non è lui Finito? Va bene Quanto è vero